I carabinieri della compagnia di Domodossola sono intervenuti la scorsa notte nei pressi della stazione ferroviaria arrestando un senegalese 26enne, con precedenti, colto in flagranza di reato di violenza sessuale. Erano passate le due di notte quando una persona, qualificatasi come un turista cinese di passaggio e fermo in stazione in attesa del treno per Milano, contattava il 112 segnalando che un uomo... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera.